Bella raga ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovissimo video qua sul mio canale Questa oggi ragazzi siamo tornati su Brawl Stars Esattamente 10 giorni fa vi ho caricato il primissimo video su questo mio nuovo profilo O meglio non proprio nuovo però dopo la storia del ban questo qua è diventato il mio profilo principale no? Ho iniziato che stavamo a 8000 coppe e adesso stiamo per raggiungerle 12000 Per cui in 10 giorni più o meno abbiamo fatto 4000 coppe Oddio chissà quanto avrei merdato In realtà io giocavo solo durante live oppure durante video quindi lavorando Con una media di 2 ore al giorno circa forse anche meno perché un paio di volte la live è saltata Quindi non è stato difficile in questo video vi svelo il trucco Trucco che in realtà non esiste perché basta semplicemente giocare e cercare di non perdere Insomma non giocare a caso non rischiare di andare a morire allo start Questo è il trucco che in realtà è banale ma guardando spesso i commenti non è così banale come sempre in realtà A parte questo raga quest'oggi siamo a 11969 e vorrei arrivare a 12000 assieme a voi A 12000 abbiamo anche la mega cassa ma che non aprirò fino a quando non arriverò a 14000 Quindi detto questo raga direi di andare in occhio del ciclone ecco vi consiglierei di giocare qua se volete salire velocemente Che dura un po' con le partite Io raga direi che possiamo mettere stecca E andiamo Allora abbiamo subito due casse qua davanti E chiaramente si vanno a prendere Mi sembra giusto Ottimo Ma poccio Ma Ha aiutato quella cassettina Ah ecco ritorna così Bella bro Beccati ste bottazze va Se ci vuoi morire tanto meglio non è un problema Poccio Vieni qua bro Mi serve il colpo di grazia Vabbè in realtà non è che devo recuperare tutta sta vita Però Bella frate Ottimo Siamo quindi Bene Qua c'è un altro stecca Bella brother Beccati ste bottazze Aspetta però qua meglio non rischiare che Abbiamo molta più vita rispetto a lui Ma qua la situazione può cambiare completamente E dato che ci sono ancora un bel po' di Ma L'ho distrutto Aiuto Aiuto Si bello Yes Dai Ottimo e anche lui ci muore Frate basta che faccio così Beccati No mi ha preso Vaffan brutto E abbiamo pure Vabbè vinco io Se non metta vinco io Vieni bro avvicinati Avvicinati pure Dai frate su Bello Ottimo Yes Prima partita Andata raga Allora seconda partita Ancora due cassettine E che fai non le prendi E certo che le prendi E quella Pamma No frate Non hai Non hai Mi sa che non hai capito tanto bene No 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 Credo che tu non abbia proprio capito per niente Frate E no No va bene Va bene va bene va bene Meglio non insisterci su di lui Proviamo su Pam Bella Pam Bellissima Aiuto 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 un'altra Pam T'ho distrutto T'ho distrutto Ottimo rega Dove è finito Allora Oh mamma è questo No 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 Aiuto Aiuto Vabbè Mi servono delle hit su qualcuno Ecco è ovvio che tu uscissi da lì Aiuto Oh frate ti devo hittare No 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 Vabbè va bene anche il quarto posto Però No devo hittare qualcuno Sì No Devo hittare qualcuno Sì hittato Morici No no Ci voglio io Vabbè Vado per il quarto posto Va bene Tanto alla fine Redendo scherzato È sempre un più 5 E che fello butti Assolutamente no Niente ragazzi Ci vecchiamo sempre le due casse Che va bene Per carità Che sia mai Chiaramente c'è quell'8 bit Che ora farà il kkk Però Beccati sta bottazza bro Beccati anche questa va Vai avvicinati pure Non c'è problema Anche se In realtà Il problema potrebbe anche arrivare Bella bro Ottimo Ok Ormai che ci siamo Ci prendiamo questa Ci prendiamo Volendo No vabbè Ci prendiamo Volendo Anche la gassa Là dietro Tanto occhio Se qua Ok Ah Eh purtroppo Ho perso Mila di vita Così Vabbè Dobbiamo mettere qualcuno Qua non è che si nasconde Qual Bella bro Distrutto Terrarabottazza Aiuto 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 Allora c'è qualcuno Là sopra Che è ancora nita È nita È messa molto bene Qua bisogna stare Molto molto attenti Perché Frate Ti devo uccidere io Sì 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 Hai vinta raga Hai vinta per forza di cose Io non credo che Ok Ha più vita di me Ok ora non ha più vita di me Bella bro Ci si vede alla prossima Sì È stato un piacere Vabbè Tu tanto ci muori Quindi io me ne vado Bella frate Sì Vieni Vieni Ti aspetto Sì Vieni pure Vieni pure Vieni Ottimo Un altro bel più 10 Ma a che punto siamo Mi sa che manca l'ultima Può essere Abbiamo fatto un bel più 25 E si ha Sì Siamo a 11.993 Basta l'ultima Dai raga Ok Ultima partita E giustamente la doppia cassa Non c'è Mi sembra Tutto in regola Allora Se la doppia cassa Non c'è Potremmo anche Prenderci qualche Bottarellona Su di lui Allora Beryl Ci dà problemi Solo con la special Fino a quando non la prende Non è un problema in realtà Però chiaramente Se intorno nel cespuglio Potrebbe diventarlo Un problema Quindi Tripla cassa Qua La madonna Non credo ci sia qualcuno Qua dentro No no Non c'è Bellissimo raga Stupendo Magnifico Incredibile Allora Andiamo a prenderci Qualche bottarellina Va Eccola Sì brother Qual è il tuo piano Frate Sì bro T'ho distrutto Sì sì Vieni pure Tranquillo Tranquillo Frate Ok Abbiamo fatto per ora Un bel più 6 Mancavano 7 coppe Mi sembra Può essere Quindi deve morirci Un altro Piper Da dove ha sparato Da qua no Ma non era Che bottazza Ecco niente Ok niente Abbiamo recuperato Vabbè Almeno Non credo Che la vinceremo Però Cioè In realtà dipende Se non ci facciamo Hittare E la hittiamo No Eh niente Vabbè Vada per il più 8 Tanto le 12.000 L'abbiamo fatte Non c'è nessun problema Esattamente 12.001 Olè Preciso Pulito Niente raga Anche questo piccolo step È stato completato Apriamoci due Cassettine Che magari Accade il miracolo divino Per le 12.000 No Purtroppo no E vabbè Comunque raga Per questo video Direi che posso anche essere tutto Mi raccomando Ben like Iscrizione con campanellina Noi come sempre Ci mettiamo alla prossima Con un nuovo video Bella raga Ciao ciao